Il stream è ottimo di per sé però non mi comunica nulla Non deve per forza comunicare qualcosa un videogioco, c'è gente che è convinta di sta roba qua L'altra volta Ero Al MOBA E spunta L'essere più ripugnante di questo mondo Un fan di Sabaccuno Maiko Vestito con la maglia di Price the Sun Calvo Arriva questo fan con i suoi amici E abbiamo discusso un po' di videogiochi Sempre il discorso cosa deve comunicarmi un videogioco Io ho sempre pensato Ma Veramente Inserire nel proprio videogioco Una miriade di riferimenti storici e biblici e letterali Lo rendono così migliore degli altri giochi Cioè chi cazzo l'ha detta sta cosa qua? Eh ma questa roba qua Parla della letteratura Questo qua sta parlando di questa roba qua No 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 Letterari Letterari Sta parlando di questa cosa qua sta parlando di questa roba qua Capito? Non è Questo gioco qua tu non lo stai capendo perché c'era questa roba qua E si parla un po' di questa roba qua Non l'ho mai veramente capita ragazzi Mi sembrano cazzate di merda Non stai leggendo un libro Non stai facendo una lezione Non stai neanche imparando un cazzo Stai giocando a un videogioco In realtà Impari sempre trasversalmente qualcosa Se giochi i videogiochi Anzi Io ho imparato tutto l'inglese che so Grazie a World of Warcraft Però quello è un gioco diverso Là si parla di comunicazione E anche un social quel gioco là Dare davvero tanto conto a un gioco Solamente perché è zeppo di questi riferimenti Di sta gran minchia Non lo so ragazzi Parlavamo del concetto del bello Perché si parlava di moda non so Ed è arrivato il classico Cazzo di discorso Che Tempo fa la bellezza era un'altra cosa Cioè le persone grasse Perché si parlava di grassi Le persone grasse Tempo fa erano quelle belle Erano in tutti i quadri Al cui io risposi A me è fatto un cazzo Quello che effettivamente viene definito bello Prima, dopo Perché non penso di essere Non penso di averla così tanto inculcata dentro di me Questa cosa da essere Nel mio DNA Adesso mi devono piacere le persone magre Semplicemente E lo dico da grasso Magri è meglio Per una serie di motivi Che non dovrei neanche spiegare Ma lo faccio Perché a succhiare i cazzi siamo tutti bravi Stanno molto meglio di salute Sono sicuro che a me mi aspettano un bel po' di mali e malesseri Che mi stanno aspettando così Tivo appena hito degli anni particolari Penso 33 Fra due anni mi aspettano Allora Ciao Piacere Tumore Tu? Eh guarda Arresto cardiaco Piacere Sono ok Io tosse Tosse però Ho un sacco di sangue dentro Ah cazzo ragazzi Ma mi aspettavate qua Sì Ci hai messo un po' Però cazzo se sei arrivato alla fine Eh no Che faccio? Eh si muore Si muore? Sì Ma subito? No Dieci anni di sofferenze orribili Dove devi imbrogliare che hai un malessere che ti ha fatto mangiare Non dirai mai più dai trenta in poi Io ho mangiato come un obeso di merda E poi muori Cazzo sembra veramente una vita di schifo Eh te la sei voluta tu Però cento anni fa nei quadri mettevano i ciccioni Mim Beh bello Beh cioè è importante no? Se per te è importante tutto è importante Ok Comunque era un po' Era un po' sta roba qua Ehm Questo discorso è così vecchio Tempo fa L'estetica era un'altra cosa Ok Però se si parla di ciccioni E di gente magra E quindi in salute Ok che il tumore può arrivare a tutti Ok Ma non sto parlando di quello Sto parlando proprio di Prima era un esempio solamente del faridare Sto parlando proprio di salute Ragazzi non posso E io l'ho detto anche lui Non posso avere l'affanno Se mi allaccio le scarpe Non posso salire le scale Due volte in una giornata E già la dichiaro terminata E' veramente una scarpezza E' bellissimo perché tu Lo puoi dire che sei grasso E non ti rompono i coglioni Non si parla neanche di questo amico Si parla del fatto che E' palese che è peggio Ed è secondo me importante Almeno essere stato grasso per me Una volta nella vita Perché posso parlarne pure dopo no? Cioè E quindi si parlava un po' di questa cosa qua E poi Questo La cosa che mi ha fatto più paura E vorrei tanto parlarne con lui Qua in live Perché Lo dico da Persone che ha il fandom Almeno su Youtube Perché vedo che su Twitch la gente si comporta Molto più umanamente E in maniera reale O fra i fandom Più affezionati E ossessionati Di Youtube Nel senso che I tizi di me I tizi che stavano me contro te Sono a posto in confronto Perché almeno quelli sono piccoli Ci passi da quella fase Io mi ritrovo trentenni Che si inchinerebbero a me Perciò facciamoci un attimo i calcoli E quindi Parlavamo del fatto che Questa persona Reputava Sabago un grande Io sono d'accordo E' veramente un grande Secondo me A livello di Hobby E di parlare con lui Di videogiochi Mi sono sempre trovato bene Non siamo mai cagati Oltre quello Perché siamo lontani E in più Non riesco proprio a coltivare A distanza le cazzo di Reazioni Come molti di voi Converranno E si parla del fatto Che secondo lui Sabaku Sabaku Essendo che ha caricato Molti video Lunghi Sul suo canale youtube E in più con le live Questa persona affermava Che conosceva Sabaku no Maiku Michele Al 90% Al che io là Iniziai un po' A ridere Dicendo Ma che cazzo Sta dicendo Ma cosa cazzo Sta dicendo Tu conosci Sabaku no Maiku Al 90% Perché mette video lunghi Mi sembra un po' Una minchiata Allora c'è stata Questa roba qua Un po' Andare e vieni Si No Si Secondo me Si E io ho detto Bro forse Secondo me Lo conosci al 20-30 Forse Forse No 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 Guarda se proprio devo dire 80 Io ho detto No non puoi Conoscere Cioè 80 è tutto 80 è 100 70 è 100 60% È 100% Ma non puoi Conoscere neanche La metà Di una persona Solamente con i video Anche Se vivesse Tutta la vita In streaming Non puoi Non puoi E lui mi dava argomenti Che comunque Non erano sbagliati Ovvero Se fai video lunghi Qualcosa ti scappa Se fai una live lunga Qualcosa ti scappa Ed è vero Ok Ma avete conosciuto Molto meglio A me qua Su Twitch Ma è sempre Davanti a una videocamera Ed è sempre Una parte Della tua vita E non sarà Tutta Non sarà Tutta la tua vita Il grande fratello Che poi parlai pure di questo Che secondo me Il grande fratello È uno dei format Migliori mai creati Nel mondo dell'intrattenimento Gioca esattamente Su questa roba qua Ovvero Facciamo stare Tante persone Senza dei beni Materiali In un posto Per tanto tempo Perché prima o poi Uno sbarella E se prima È uno show Di intrattenimento Perché ognuno Fa un po' La faccia di merda Dopo diventerà Un reality Sempre di più Perché la gente Si romperà il cazzo E farà uscire Il vero La loro vera personalità A meno che Non sia proprio Una di quelli là Che lo fanno Fin dall'inizio Ed è proprio per questo Che si creano Tutti quei cazzo Di allacci Fighissimi Che hanno portato Il mondo intero A vedere Sto cazzo Di grande fratello In Italia solamente Che comunque Era il più brutto È arrivato fino Alla centesima stagione Gira proprio Tutto su questo Era proprio il futuro Il grande fratello Infatti Ci siamo arrivati adesso Con Twitch Un po' Ma era veramente Veramente il futuro Ma anche là Che comunque Il grande fratello È tipo le live Più lunghe Mai fatte al mondo Sono le maratone Più lunghe Fatte al mondo Perché per quanto Loro possano Anche raccontarti Per fine e per segno Quella che è stata La loro vita Non Ma già il fatto Che non la vivi tu Già il fatto Che non la vivi tu Quella vita là Il fatto che la stai La stai leggendo La stai ascoltando Non è come viverla Come puoi dire Di conoscere L'ottanta per cento Di una persona Solamente di cazzo di video E poi arrivò Un altro discorso Ancora peggio Ovvero Secondo me La relazione di Sabaku Con la sua ragazza È la relazione perfetta Ma che cazzo ne sai Ma che cazzo ne sai Ma hai Leccato la fissa La ragazza di Sabaku Hai fatto un pompino A Michele Hai fatto queste due cose Perché secondo me Non puoi dirlo Non puoi dirlo Non puoi dire un cazzo E lui La sua risposta è stata Eh ma trovare qualcuno Che ha Il tuo stesso hobby Preferito È raro E quindi E quindi E quindi Cioè c'è veramente Da chiedere Ma E se veramente Sono i videogiochi La cosa che tengono in vita Quelle due persone Michele e la sua ragazza Che non ricordo il nome Perché sono una merda Quindi se togliamo Questo addendo Dall'equazione È finita La loro relazione Non è più perfetta Diventa Imperfetta È ovviamente Un'ipotesi Però Quanta Quanta prepotenza C'è dietro queste frasi Io conosco L'ottantacento Sabaku La loro relazione È perfetta Ma che cazzo Ne sai Non era piccolo Ma perché tu E Daniele Ma che cazzo Ne sai Io spero Il Dio Che domani Esce sul giornale Sabaku Ha tradito La sua ragazza Con un Furry Di Dark Souls C'è la La cazzo Di armatura Tipo Lupetto Ok deve scoparsi Quel tizio là Tradendola E finisce Nel peggiore Dei modi Torniamo da questo Dizio E gli faccio Ma In quei video Da dieci ore Che metteva Sabaku Non faceva mai Riferimento A Il tradimento Sembra tu Abbia detto Un mucchio Di merda Ma questo è un sogno Non accadrà mai E sai perché Non accadrà mai Perché sono Cazzi loro E tutti hanno I propri cazzi E c'è sempre Una scelta Di cosa far vedere E cosa non far vedere Ma non per malizia Non per omettere O per imbrogliare Ma perché È così E questa cosa Non può cambiare Dire che conosci Una persona All'80% Perché hai visto I suoi cazzo di video È da prepotente Di merda E quello che voglio dire È che questa cosa È che questa cosa qua King's Ark Official Benvenuto È che questa cosa qua Un po' Io Oh Bezzabel Bezzabel ha donato Due euro Sta cosa Di approcciare Agli streamer Come amici Di una vita È veramente ridicola Il rapporto Più simile È quello Fra datore Di lavoro E dipendente Punto Io ti pago E tu mi intrattieni Perché io voglio Intrattenimento Non un amico Però Allora il fatto è questo Bezzabel Perché Dipendentemente Da quella che è la sensibilità E il modo delle persone Che hanno di leggere Le persone Effettivamente Tu puoi incontrare qualcuno Che hai conosciuto online E avere una Già Confidenza di default Con lui Io con moltissimi di voi Specialmente Che ho conosciuto su Twitch Sempre perché Questo discorso Comunque dei ragazzi È vero Se guardi tanto Qualcuno Un po' Lo conosci Meglio di Qualcuno che posta E basta dei video Di due minuti Tomska Ok Io non conosco Tomska Ehm Ma E quindi Ok Ho sviluppato molta confidenza Già di base Quando conosco qualcuno Che ho conosciuto su Twitch Con Stuvi Quando l'ho incontrato Ci sta subito Quella empatia Ed è bello Ed è bello Che una persona Riesca ad avere Questa sensibilità Da capirlo già Da internet Io ne ho avuti tanti Ho avuto la mia vita Costellata di questi momenti Ma io perché sto qua Ma da qui A dire che un Nessuno Conosce un altro Nessuno Perché siamo questo Numeri di merda All'ottante per cento Perché ha messo Tre quattro video Dove parla per tanto tempo I don't know Mi sembra una grossa Esagerazione Quindi Boh Ehm Poi ci siamo là E la cosa bella è che Tipo aveva i suoi amici là E quando io gli andavo contro A loro A loro brillavano un po' Gli occhi Perché ho detto Chissà Quanta rottura di cazzo Fa sto tizio Durante le giornate Parlando di Quel cazzo Di Zabaku Tutto il giorno Con i suoi amici Chissà Forse sono il messia Per loro Chi lo sa Questa cosa qua Mi entro nel culo Prima di fare il video Conoscere lo youtube Ehm Gli youtuber Sono delle persone belle Perché Era il periodo In cui avevo viaggiato In tutta Italia Perché mi avevano invitato In tutte le fiere Perché avevo iniziato Ad avere i numeroni Quindi Mi hanno invitato E Avevo comunque notato Che Nonostante si parlava Si parlasse di persone C'è sempre quella Cazzo di linea Enorme Che divide Chi ti guarda Da te Che ti fai guardare Ehm Anche se vengono Con te Anche se passano Una cena con te Anche se ti invitano A casa loro a dormire Ma Ma è così logico Come discorso Che già giustificarmi Su quelli che sono stati I miei discorsi Da cretini Cioè mi sembra Veramente normale Io vi consiglio Veramente a tutti Di Take it easy Per quanto riguarda Quello che pensate Della gente online Ma non solo Influencer Tutti quanti Perché Prenderete delle grosse delusioni Nella vita E il fatto è che L'ossessione A volte è così grande E la delusione anche Che non avrete la maturità Di dire È colpa mia Mi sono ossessionato Ma la cosa che direte Sarà Non me l'aspettavo Da quell'influencer là Mi ha deluso No amico mio Sei tu che hai succhiato Il cazzo a un fantasma Per tanto tempo Poi l'hai guardato Hai scoperto Che era di carne e ossa E magari Ti è dispiaciuto Che ti ha sborrato dentro Capito? Guarda che Sabaco Ha fatto una rubrica Di 3-4 serie Dal nome Spirito del Falò Racconta aneddoti Della sua vita Anche piuttosto importante Di come li ha vissute E come li vede oggi Perciò potenzialmente Sabaco Sono sincero Se hai visto tutta la rubrica Secondo me lo conosci anche Il 50% Cazate Perché una persona Potrà respirazione Da questa cosa qua Questo spirito del Falò Lui me ne ha parlato Di questo spirito del Falò E lui può raccontarvi Quello che cazzo vuole ragazzi Ma Ci sono così tante variabili Io non voglio dare Del Sabaco Del pallonare Dell'imbroglione Ma io sto parlando Veramente Solamente della figura online Lui può raccontarvi Quello che cazzo vuole Ma il fatto già Che ve lo sta raccontando Al massimo Potete conoscere Quello che è successo A lui Potete inquadrarlo Meglio come persona Ma da qua A dire Lo conosco Mamma mia Se c'è una minchia Di autostrada Ma perché neanche La gente si conosce E non voglio fare Il filosofo Dico solamente Che dipendentemente Dall'età che hai Più cresci Più scopri cose nuove Di te E magari Ritornando indietro Le faresti in maniera diversa Molti la pensiamo così Ci sono stati dei ricordi Nella mia vita Che magari Col senno di poi Pensavo Minchia Avrei dovuto fare così Col senno di poi Poi ho detto No no Dovrei fare in realtà così Fino a quando magari Non mi sono passate Non mi è passata la rabbia O mi è tornata Perché dipende sempre Da quello che vivi tu Cioè A mio parere Ed era questa la cosa Che volevo gettare La bomba nucleare Secondo me una cena Con una persona Già vale cento video Cosa? Già E già due scene Con una persona Valgono cento prime cene Perché è comunque In quel modo Che puoi conoscere qualcuno È quello il modo Per conoscere qualcuno Puoi dire Puoi dire i numeri 50% 80% Non sapete È un cazzo Porco Non sapete niente Sapete le storie Conoscete Daniele Perché aveva raccontato Tutta la merda Che gli è successa Nella sua vita No Ma è così palese Io posso dire Ok Lo conoscete meglio Empatizzate con lui Spesso anche io Racconto cazzi miei E tutti I feel you bro Ma da qua a dire Lo conosco Ragazzi Che non voglio dire C'è insensibilità Fra di noi C'è una distanza Però è così Io non voglio buttare Non voglio farvi afflosciare Il cazzo dicendo Ma anche perché io Solo voi Cioè Non ho solo voi Però Per me siete molto Molto importanti Ma non è che Importanza Uguale Conoscersi È davvero diverso Soprattutto se questa importanza È virtuale Il virtuale è importante Perché è sempre vita Ma è molto diverso È molto molto diverso La gente dovrebbe Semplicemente Pensare Le parole In maniera differente E comunque Sceglierle anche diverse Conosco Sabaco All'80% Porco Chi sei Sua mamma Secondo me Neanche sua madre Lo conosce All'80% Io un po' Pensavo Che la colpa Fosse mia Infatti C'è stato proprio Quel periodo In cui Ho fatto un po' L'oyotobi Post mostarda Ovvero Ha iniziato a lamentarsi Molto di più Ho iniziato ad essere Molto più umano A rompere il cazzo Perché Ero così Disturbato Da questa ossessione Verso i miei confronti Nonostante Sia normale Però normale perché? Solamente perché Internet non riesce A spiegare bene Come utilizzarlo? Allora è la colpa Di qualcuno C'è colpa Di qualcuno Io dico solamente Che non posso Cambiare internet Ma al massimo Mi prendo la mia Responsabilità E cerco di Comunicarvi Qualcosa Per battere Quel dramma La di Come faccio A Spiegare A uno Ossessionato Di me Che mi segue Che non dovrebbe Seguirmi Ossessionarsi Con me È un cazzo Di enigma Perché io vivo Grazie a quella gente Là Però boh Secondo me Robbe come Twitch Sono avanguardistiche Non solo perché Adesso è quello del momento E i soldini Tanti soldi Ma proprio perché È così vera La cosa È molto più vicino Al conoscere qualcuno Nella vita vera Twitch Quindi cerco Veramente di Fare un po' Il cazzone Come lo faccio Nella vita vera E parlare con voi In una maniera Pseudo umana E dico cerco Perché sono sempre Davanti a una videocamera Ragazzi Porco Non esiste una persona Che mentre parla Nella vita vera Ha un faro davanti La luce I videogiochi Le cuffie Un microfono Sono in un cazzo Di studio Non potete Conoscermi Nessuno può farlo E nessuno può farlo Neanche con voi Siamo sullo stesso livello Io conosco Sabac Quello tante Minchia Se mi è rimasto Nel cervello Sto cosa qua Mamma mia Conoscere una persona Non vuol dire Sapere qualcosa Che gli è successo Cosa ha fatto Nella sua vita So d'accordo E' questione di sapere Come reagire A determinate situazioni Sapere come avete Derminate cose In chiotti In maniera più personale Sapere Finezze sull'individuo Eccetera Sono esattamente Troppe variabili Come hai detto tu Io avrei accettato La frase Scomodissima Ovvero Io conosco All'80% Quello che Sabaku Ha detto Online Oppure Io Conosco L'operato Di Sabaku Al 100% Online Perché mi sono Visti Tutti i suoi video Questa è una frase Ma conoscere Sabaku L'80% E dire Alla relazione Perfetta Perché Maschi e femmina Giocano ai videogiochi Minchia che tiro di fionda Bro Dove l'hai fatta arrivare Quella cazzo di palline Boh Perché Minchia Parlare di qualcosa Della vita vera Scusate se sono ridondante Ma parlare qualcosa Della Già parlare di questa cosa qua Non vi fa conoscere Questa persona Al 100% Parlare di questo fan Di Sabaku Perché comunque Sembra il coglione finale L'ho proprio dipinto A deficiente Però Sembrava una persona Almeno ragionevole Nel senso che Se gli dicevo No senti Sei un coglione Probabilmente stai dicendo Cazzate Non stava La controbattere Mi ascoltava Però questo è il zucco Del discorso Che se tu parli Di qualcosa Successo nella vita a te A gente online Ma in realtà Anche la gente Nella vita vera Non può conoscerti All'80% Secondo me Quella persona Conosce Sabaku Al 16% Forse 17% E non voglio fare L'estremista Ok Lui ha detto 70% Allora io dico Un numero piccolo Ma è un numero piccolo Non può non essere Un numero piccolo Marco ti voglio Il 60% Del 95% No 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 ragazzi Non facciamo così tanto I complessi Che è finita Allora io dico Allora io dico Allora io dico Allora io Grazie.